Divya Carli prosegue la stagione dello spazio vuoto a Imperia e adesso mercoledì 21, le 21.15, arriva uno spettacolo con un personaggio importante, un personaggio di carature nazionali. Sì, abbiamo la fortuna di avere con noi Alessandro Benvenuti, quindi è un grande nome del teatro, del cinema e della televisione italiani. Attualmente lo possiamo vedere nei delitti del Barlume. presenterà un monologo che si intitola Un comico fatto di sangue, scritto a quattro mani con la moglie e narra un po' le vicissitudini all'interno di una famiglia, con un marito, una moglie, due figlie e qualche animale di troppo. Quindi è molto divertente e vi invitiamo a venirla a vedere. Questo mercoledì sera alle 21.15, ma lo spazio vuoto non finisce qui perché la stagione prosegue, Divya. Sì, siamo verso il termine, vi ricordiamo sabato 7 e domenica 8 aprile, il sabato alle 21.15, la domenica alle 17.30, ripresenteremo un nostro cavallo di battaglia, di nostra produzione, che è la Cantatrice Calva, uno spettacolo molto divertente, adatto a qualsiasi tipo di pubblico, anche ai bambini, che noi portiamo in giro ben da due anni. Poi concluderemo giovedì 12 aprile con La Molli, divertimento alle spalle di Joyce, regia di Gabriele Vacis, con una grandissima attrice, Arianna Scommegna, molto giovane, ma di cui sentiremo sicuramente parlare. Voglio ancora ricordare il 27, 28, 29 aprile, un workshop con Alberto Giusta, che è attore e insegnante al Teatro Sabile di Genova, sull'Amleto, il monologo, è aperto a tutti, sia a ragazzi che a ragazze, e può essere un appuntamento molto importante anche per chi un domani volesse veramente intraprendere la carriera d'attore, o chi anche semplicemente si vuole divertire. Insomma, lo spazio vuoto offre spettacoli, intrattenimento, ma dà anche spunti culturali a questa città, anche magari per far crescere nuove elevi. Sì, certo, anzi, poi da fine maggio a fine giugno avremo tutti gli spettacoli fine corso, bambini, ragazzi, adulti, alcuni nostri allievi poi hanno intrapreso la carriera di attore o comunque si sono iscritti ad accademie in giro per l'Italia, quindi insomma è una grande soddisfazione per noi.